Presentiamo la versione in size specific del mio assolo che si chiama Don't Be Frightened of Turning the Page, un lavoro del 2016 che appunto è stato ripensato per gli spazi qui del chiostro del Carmine. Lo spettacolo fa parte del progetto Turning all'interno del quale ci sono diversi lavori e in questi lavori l'oggetto della ricerca è sempre la stessa, ossia il corpo che ruota attorno alla propria asse per una durata indefinite. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info